Buonasera amici del Cimeno Inside, vi racconto le notizie del giorno. Il padre di Reinders, nonché suo agente, ha rivelato un quotidiano spagnolo che, nelle stagioni del 2023, prima di approdare al Milan, anche il Barcellona era interessato a lui. Scelse poi il Milan e il resto è storia. Parliamo già di calciomercato invernale. Riguardo Calabria, ci sarebbe il Galatasaray interessato a lui. I rossoneri dovrebbero quindi cercare un sostituto titolare. I nomi sarebbero Jimenev e Thiago Santos del Lille. Come detto nei giorni scorsi, nel mirino del Milan per il centrocampo c'è invece Cardoso. Un altro nome uscito è quello di Ricci, il giocatore del Torino. Il suo costo si aggira circa sui 30 milioni di euro, ma difficilmente la squadra piemontese vorrà cederlo. Parliamo adesso di Milan Futuro. La squadra di Bonera, infatti, ha avuto un difficile inizio di campionato. Seppur il progetto sia di far crescere i giovani giocatori per farli approdare in prima squadra, non deve venire meno l'obiettivo dei risultati. La squadra fino ad adesso ha collezionato un'unica vittoria, ha il peggior attacco del girone B di Serie C ed è al penultimo posto. Ci si aspetta quindi un cambiamento già a partire dalla prossima partita affinché non si parli già di esonero dell'allenatore. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata del TG 10 Milan Inside.